Andiamo a votare sì per superare definitivamente questo ping pong istituzionale tra Camere e Senato e avere un iter legislativo più breve e più efficace. Andiamo a votare sì per superare le materie concorrenti tra Stato e Regioni che hanno prodotto soltanto ricorsi alla Corte Costituzionale. Andiamo sì per rinforzare gli istituti partecipativi dei cittadini che potranno anche proporre referendum diciamo di tipo di indirizzo e non soltanto abrogativi o confermativi come in questo caso. Andiamo a votare e votiamo sì per avere un Paese più moderno, più efficiente, più efficace e soprattutto più rapido nelle sue scelte che sono scelte di democrazia.